Quando raccontiamo una storia, oltre al contenuto, ci sono un sacco di altri elementi che entrano in gioco e che entrano nel flusso della narrazione. Ad esempio, mentre vi sto raccontando queste parole, c'è qualcuno che ha scelto un'inquadratura, dei colori, dei vestiti, delle scenografie. Tutto questo andrà a determinare in maniera importante la vostra percezione finale di quello che stai ascoltando. Ecco, fare questo gesto vuol dire fare storytelling, che significa non soltanto raccontare una storia, ma prendersi cura di un universo narrativo in cui ci sono le storie e tutti questi altri elementi. È proprio quello che faremo in classe. Impareremo a costruire e gestire un universo narrativo e a declinarlo in tutte le direzioni possibili. Io sono Francesco Nappi e vi aspetto al corso di storytelling e comunicazione.